Siamo giunti all'undicesimo mese di quella che è la prima guerra nel cuore dell'Europa del ventunesimo secolo, da quando cioè il 24 febbraio del 2022 l'esercito russo invase l'Ucraina. È una guerra che ha sovvertito letteralmente gli equilibri planetari e che ha avuto delle ricadute fortissime nelle condizioni di vita del mondo occidentale. 11 mesi dopo la Nato riunitasi a Rammstein, seduta straordinaria in Germania, nella base militare americana di Rammstein in Germania, non è riuscita a tirar fuori che un'ulteriore richiesta di armamenti. Richiesta di armamenti che l'Italia ovviamente ha accettato, tant'è che questa settimana il Consiglio dei Ministri dovrà varare un sesto decreto di aiuti, mentre invece la Germania di Scholz ha dichiarato apertamente che i cosiddetti Leopard 2, cioè i carri armati di ultima generazione, potentissimi, potrebbero non far parte degli aiuti europei all'Ucraina, perché vengono considerati strumenti di attacco. Certo è che il governo tedesco guidato dal socialdemocratico Scholz è in risalita nei sondaggi proprio per effetto di questa decisione di evitare una pericolosissima escalation con l'invio di armi sempre più potenti e terrificanti. C'è un'altra grande questione che si apre all'orizzonte e che è data dal cosiddetto rapporto Oxfam che è emerso negli inizi della settimana scorsa, cioè che in epoca della pandemia e anche dopo, le poche centinaia di megaricchi sono diventate ancora più ricchi e i milioni di poveri sono diventati sempre più poveri. Questa straordinaria distanza tra ricchezza e povertà si è acuita sempre di più e continuerà ad acquirsi. Cito un commento del New York Times e un altro commento uscito sulla stampa britannica, sul Guardian, in particolare, che ridefiniscono ormai l'assetto del capitalismo mondiale. Riconoscono che c'è qualcosa che non va nel capitalismo mondiale dove l'economia di carta ha letteralmente sovvertito l'economia della produzione. Siamo tornati indietro sostanzialmente dal 1990 anni. C'è una crisi del lavoro a livello internazionale, c'è una crisi della produzione a livello internazionale, c'è una crisi nei rapporti economici est-ovest che tra l'altro prevede anche una crisi fortissima della Cina, leader mondiale assoluta da qualche tempo e che però, per effetto appunto di un ritorno della pandemia, corre gravissimi rischi di crisi endemica. Tutto questo si ribalta ovviamente in Italia. Sono successe due cose. La prima, l'arresto del boss Matteo Messina Denaro a Campobello, in provincia di Trapani, ha ovviamente aperto il vaso di Pandora su come è stato possibile che non solo lui ma tanti boss mafiosi abbiano potuto vivere bene, molto bene, con tanti soldi, incontanti, nei territori di provenienza. Dall'altra parte c'è una polemica che riguarda il ministro della giustizia Nordio che si è inventato sostanzialmente un'Italia sottoposta e subalterna alle decisioni dei pubblici ministeri. Ora, ridurre la giustizia italiana a una sorta di subalternità ai pubblici ministeri è azzardato, molto azzardato, perché tutto questo ovviamente conduce a una riforma, è una riduzione delle intercettazioni telefoni e di fatto prosegue, diciamo così, questo tentativo da parte del governo delle destre di esercitare una forma di egemonia culturale nell'opinione pubblica. Non è un caso che la Gcom abbia decretato che ormai l'informazione della RAI ha sempre e soltanto il segno del governo Meloni per il 73%, il servizio pubblico, lui sì, esso sì, pare subalterno diciamo agli interessi comunicativi della destra al governo. Ma c'è un'altra notizia che è emersa in questi giorni e su cui continueremo a dibattere nella rubrica sulle parole urticanti di mercoledì prossimo, l'altra notizia è l'incremento dell'inflazione e a che cosa conduce l'incremento dell'inflazione. Ecco, inflazione è la parola che ho scelto per approfondire che cosa sta accadendo in queste settimane, in questi mesi e su cui anche i sindacati stanno premendo con forza sul governo. Quello che sappiamo è che l'inflazione brucia circa 2.800 euro l'anno sul lavoro dipendente, ciò significa che a qualunque stipendio sia devi detrarre il costo dell'inflazione, che è di circa 40 miliardi complessivi. Come si risponde? Come si fa calare l'inflazione? Di certo un tasso così alto di inflazione non si vedeva da tempo. Alcuni sindacati dei bancari rilevano ad esempio che l'inflazione sta erudendo anche i risparmi sul conto corrente, che sono sempre meno quelli che lavorano a tempo indeterminato, sono sempre più i precari e si assottiglia la base di coloro che pagano i contributi per le pensioni, tant'è che anche la riforma delle pensioni è nel mirino della destra. Così come nel mirino della destra è una riforma del fisco con tre aliquote che sostanzialmente è un modo per mascherare diciamo così l'avvio di una riforma che conduce alla flat tax incostituzionale. In Italia succede questo. Succede che sul piano economico il governo non ha fatto fronte e non sa come far fronte diciamo all'innalzamento dell'inflazione che erode i salari, che erode i risparmi degli italiani e ripropone condizioni di vita materiale sempre peggiori. Ve ne cito una, se mezzo chilo di pasta viene in tre mesi, passa da 0,75 euro a pacco, a 1,55 euro a pacco vuol dire che c'è un problema. Sul mondo del lavoro, sui pensionati, non certo sui ricchi. Questa parte di XXI secolo ci consegna una difficilissima condizione di vita materiale per la gran parte delle persone che vivono in Europa e in Italia in particolare. Forse è il caso che sull'inflazione si eserciti una maggiore confluenza di ragionamenti e di analisi e si capisca davvero che cosa sta accadendo e come incidere, diciamo così, per recuperare parte dei salari perduti, parte del potere d'acquisto perduto. Ma ne parleremo la prossima volta.